Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Zasti Oggi sono qui a portarvi un nuovo video, questo video sarà un video vlog Vlog in cui vi dico che farò un contest PS3 e PS4 Non lo farò Xbox 360 e Xbox One perché un milione di crediti appunto su questo contest Costano 35€, dopo se volete lo farò di 100.000 crediti se volete Perché 5€ costano 100.000 crediti appunto sulla Xbox 360 e Xbox One Invece sulla PS4 costano 5€ e costano un milione di crediti Ragazzi questo era tutto quello che vi volevo dire Comunque vi volevo ringraziare perché siamo 152 iscritti E niente ragazzi, il video finisce qui Mi raccomando, le regole sono lasciare un like, commentare Iscriversi al canale e aggiungere questo video ai preferiti Il video finisce qui, bella